Inizia la nuova settimana ma inizia anche il nuovo mese sui mercati delle criptovalute dopo un settembre altalenante, in realtà non è stato né positivo né negativo meno 5 alla fine del mese per Bitcoin, però abbiamo visto molto peggio invece i mercati old quindi in realtà quando le cripto reggono un po' di più il contraccolpo di mesi un po' particolari popolatili per i mercati old è sempre un successo. Bene ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video ragazzi oggi facciamo un po' il punto della situazione dal classico punto di vista ciclico analisi tecnica dei mercati delle cripto e anche il Nasdaq 100 che ormai riportiamo da un po' di mesetti però prima di andare avanti ci sono una serie di news che dobbiamo mettere un po' in conto quindi dobbiamo un po' parlarne e intanto il calendario economico di quello che è il mese di ottobre perché ci sono dei dati che secondo me sono molto rilevanti, alcuni discorsi della Fed ma soprattutto il tasso di disoccupazione degli Stati Uniti molto rilevante e poi ci sono i dati sulla BCE e quindi vediamo quali sono i giorni che possono portare maggiore volatilità al mercato delle cripto in generale ma anche mercato old a meno di eventi straordinari come quelli che potrebbero accadere per risvolti di natura bellica purtroppo. Poi c'è una news invece proprio all'interno del settore delle criptovalute che è molto importante da attenzionare, ci sto ancora ragionando su cosa fare ma ne parliamo tra pochissimo e poi parliamo anche di un'ipotesi che sta girando un po' nelle ultime ore sottostante sul fatto che il mercato delle criptovalute potrebbe beneficiare di una crash del dollaro dal prossimo anno in poi nel 2023 perché teoricamente potrebbe essere in effetti così un po' assimilando questo concetto a quello che è successo quando la banca d'Inghilterra ha iniziato a fare un quantità di vising nuovo per sostenere i titoli di Stato. Va bene, allora senza perdere altro tempo, prima argomento del giorno è questo ragazzi quindi quelle che sono le news del mese di ottobre. Intanto però prima di andare avanti ragazzi vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto lasciandomi i pollicioni che ci date una mano, mi dai una mano a sostenere insomma questo lavoro e poi a parte questo vi fate anche lavorare con più stato d'animo positivo sono più contento ovviamente perché vedo il mio lavoro apprezzato questo è sempre una cosa bella quindi su quei pollicioni e iscrivetevi al canale. Allora intanto iniziamo dalla giornata di oggi proprio lunedì 3 ottobre ci sarà l'indice ISM però questi indicatori che possono essere molto rilevanti per quanto riguarda la questione della recessione economica in questa fase io un pochino ragazzi li lascerei perché dobbiamo concentrarci su quello che effettivamente possono essere i market movers del momento in questa particolare situazione in questo caso sono di basso impatto. Quello che andando avanti diciamo senza perderci in 8000 argomentazioni c'è il discorso della lagarde per la questione della BCE martedì quindi domani proprio poi andando avanti altro dato che potrebbe essere molto rilevante questo sulle scorte di petrolio greggio degli Stati Uniti mercoledì alle 4 ora questo orario italiano ragazzi ok alle 4 ora italiana poi abbiamo tutte quelle che sono i dati invece importantissimi secondo me nella giornata del 6 di ottobre perché c'è le minute sul meeting della BCE che saranno utilissime per capire come la BCE si muoverà in virtù dei tassi di interesse c'è da dire che secondo me un po' questi dati sono scontati perché la BCE alzerà i tassi probabilmente della stessa identica misura della volta precedente per cui secondo me da questo punto di vista non ci saranno shock di mercato mentre le richieste dei sussidi di disoccupazione degli States sono molto rilevanti se dovessero scendere ancora quindi essere positivi i mercati la prenderanno male l'ultimo dato che è stato positivo molto positivo per le richieste di sussidi di disoccupazione ha provocato un flash crash ragazzi questo giusto per capirlo non mi dilungo perché vi ho spiegato 20.000 volte perché questi dati in questa particolare fase sono presi così male poi venerdì ci sarà il tasso di disoccupazione e se salirà in questo caso i mercati la prenderanno meglio ve lo dico proprio chiaramente però insomma questi sono dati che potrebbero muovere moltissimo queste giornate potrebbero muovere moltissimo i mercati giovedì venerdì 7 ottobre poi si va avanti c'è un occhio di riguardo da dare sicuramente alla produzione della manifatturiera dell'Inghilterra visto il disastro diciamo che si sta verificando negli ultimi periodi però anche qui il dato più rilevante è giovedì 13 di ottobre che c'è il tasso di inflazione degli stati uniti precedente all'8 e 3 stimato all'8 e 1 che comunque ragazzi è altissimo allora il discorso è questo non si riesce a far scendere il tasso di inflazione se questo tasso sarà inferiore all'8.1 i mercati la prenderanno benissimo ragazzi perché il vero nocciolo da sciogliere questo una volta che diciamo la banca centrale ha indicato tutto quello che farà tutto questo impatterà in maniera pesantissima sui mercati delle criptovalute perché in questa particolare fase che è un momento molto particolare dei mercati finanziari i dati macro e le politiche monetarie impattano moltissimo ragazzi sui mercati delle criptovalute non era così tempo fa e probabilmente non sarà così in futuro ma in questa fase mi raccomando questi dati sono estremamente rilevanti poi c'è anche il tasso di inflazione il 19 ottobre dell'Europa anche qui se sarà alto per gli stessi probabilmente continuerà ad essere alto anche in Europa quindi il giovedì 13 ottobre giovedì 13 sarà un giorno molto molto importante poi andando avanti c'è la decisione dei tassi della bca della bca il 27 di ottobre e il pil della Germania questi sono dati anche rilevanti però non così rilevanti come gli altri quindi in realtà i dati da focalizzare su cui focalizzarsi ragazzi le giornate sono il 13 di ottobre giovedì per l'indice di inflazione degli Stati Uniti e poi questa settimana 6 ottobre giovedì e 7 ottobre venerdì per il tasso di disoccupazione va bene allora detto questo queste sono le giornate molto chiave importantissime per tutto il mese di ottobre che potrebbero in effetti portare a fare i famosi minimi che stiamo attendendo un po' speriamo che non li fa ma la vedo un po' difficile c'è una news però molto particolare che impatta solo esclusivamente sul mercato della criptovaluta e cioè la questione che alcuni stati degli Stati Uniti hanno iniziato a prendere nel mirino nexo ragazzi la piattaforma di se fai più importante insomma più grande che c'è al momento in pratica c'è stato una serie ci sono una serie di articoli che trovate ragazzi anche online dove nexo viene presa di mira per alcune regolamentazioni ma la sostanza la morale della favola è questa non sarebbero coperte le totali passività di nexo con i loro attivi perché negli attivi c'è la valorizzazione del token nexo e siccome il token nexo è praticamente totalmente in mano a nexo non è liquidabile nel mercato e quindi nel momento in cui nexo dovesse teoricamente vendere questo token non riuscirebbe a liquidarlo e quindi parrebbe 0 e quindi in quel caso a bilancio dovrebbe essere ridotto quel valore se viene tolto il valore dei nexo token dal bilancio gli attivi non sono coperti questo scusate i passivi non sono coperti dai attivi questo è un po' la cosa insomma che hanno imputato a nexo nexo ha risposto che non è così perché sono una loro controllata a insomma il tot dei nexo quindi non è il totale sul totale del loro asset impatta il 10% quindi è molto basso insomma e non ci sarebbero questi problemi ora ragazzi qui è molto complicato andare a comprendere cosa è vero cosa non è vero perché da una parte la regolamentazione spinge un po' mettendo sotto pressione i mercati delle crypto e badate bene io nessuna insomma qui parliamo comunque di coperture al 100% cosa che nessuna banca normale avrebbe però nel caso delle crypto ovviamente l'ente di ingrandimento tutto sotto controllo perché ovviamente devono fare così però in questo caso quanto è vero la questione legata alle regolamentazioni quanto nexo dovrà dimostrare secondo me è utile che nexo vada a dimostrare proprio come l'impatto del token nexo sia molto basso nei suoi attivi anche perché sia binance anche binance fa così ragazzi quindi non è una cosa strana però questo movimento diciamo ha causato un po' di fuoriuscite per esempio dai portafogli di nexo eccetera infatti c'è stata questa questa news di 153 milioni di ptc che sono stati tolti dal goletto di nexo da proprio market dao e insomma alcuni tweet poco poco incoraggianti perché paragonano la situazione alla questione di celsius come sempre in una questione del genere poi si va a innescare la cosiddetta spirale di food che poi non è del tutto vera però questa è una news da tenere sotto stretta osservazione sono un po' indeciso su cosa fare io per esempio sto un po' decidendo poi lo comunico in academy ovviamente non parlo di queste cose sul canale youtube però vi motivi perché non sarebbe corretto imputare una decisione mio personale a quella di un'azienda quindi cosa faccio io o meno con quelle se fai però questa è una news andata da spulciare trovate un botto di informazioni poi c'era un'altra questione invece che riguarda proprio i mercati delle cripto e poi passiamo all'analisi ciclica ragazzi Robert Kiyotaki dice che con il crash del dollaro che dovrebbe avvenire secondo lui da gennaio in poi i bitcoin e i mercati delle cripto potrebbero estremamente beneficiarne perché ovviamente la fed dovrebbe seguire un po' quello che ha fatto la banca di Inghilterra quando la fed insomma andrà a ritoccare i tassi di interesse come l'Inghilterra se avete comprato bitcoin dice lui andrete a sorridere ma il concetto è giustissimo però in realtà bisognerebbe non anticipare quello che è il mercato ragazzi perché in fatti molto delicate come queste il ragionamento è giusto quando il dollaro diventerà meno forte poi le cripto saliranno un po' sia per spinta naturale e un po' anche per una questione logica siccome bitcoin è prezzato in dollari se il dollaro si svaluta è ovvio che sale bitcoin quindi è un po' una questione matematica ma poi ci sarà una spinta di ritorno quindi un principio riflessivo su questa cosa giusto o vero ma quando parla allora io dico non anticipare il mercato perché in una fase molto delicata come questa anticipare il mercato potrebbe essere un problema è vero che i 19.000 per bitcoin 18 e qualcosa sono diventati un super supporto lo vediamo tra pochissimi minuti però se noi anticipiamo e ci fa l'ultima gambetta ribassista che potrebbe avvenire proprio in concomitanza con questi dati di ottobre che magari vengono fuori e purtroppo magari non sono buoni quindi bisognerà capire questa cosa qui anticipare potrebbe non essere la chiave giusta in ogni caso magari giocare di astuzia con una dollar cost average per i prossimi 6-7 mesi se proprio volete anticipare il mercato io non la faccio in questo periodo però se volete anticipare il mercato almeno fate una dollar cost average oppure insomma giocare di astuzia con il position sizing quindi pochi magari impianti andiamo a vedere però un indicatore che ci può indicare se questa idea di Robert Kiyosaki può essere valida o no perché alla fine noi possiamo anche guardarlo su un grafico su questa cosa qui e così ci spostiamo finalmente sui grafici ed ecco il grafico del dollaro ragazzi perché il grafico del dollaro ci deve dare risposta se è questo che dice Robert Kiyosaki è vero significa che il dollaro inizierà a scendere allora noi il grafico del dollaro lo teniamo sotto controllo da un po' o almeno qualcuno di voi ce lo ricorda vi dicevo che c'è un ciclo in questione un triennale ma che va a chiudere anche un super ciclo iniziato nel 2008 quindi di 14 anni quindi un super ciclo e un 7 più 7 gigantesco del dollaro che teoricamente ha fatto il massimo in queste zone oppure lo sta facendo quindi in queste zone qui e ci sta ragazzi a livello di analisi ciclica è assolutamente coerente poi tutto quello che è analisi ciclica e ci riporta essendo comunque un'analisi ancorata su cicli che si sono verificati nel passato è ovvio che vada a ricalcare determinati numeri uguali per tutti cioè delle fasi cicliche che sono uguali per tutti i mercati dollaro dovrebbe fare il massimo cripto dovrebbero fare la chiusura del cicli annuali insieme ai mercati old il problema in questo caso ve lo dico per esperienza è che questa analisi ha una volatilità un po' ampia quindi può essere volatile in termini di 1-2 mesi come abbiamo visto lo scorso anno per esempio nel 2021 la chiusura dell'annuale attesa verso marzo-aprile è arrivata a luglio questa cosa può essere normale questo significa quindi anticipare in un momento del genere tutte le chiusure cicliche che poi ci saranno perché comunque i cicli verranno chiusi ragazzi il problema è che non sappiamo quando quindi dobbiamo stare sul mercato sul pezzo e cercare di guardare al di là delle righe da essere pronti questo è il concetto e quando avverrà ovviamente tutti ok però se noi anticipiamo di 2-3 mesi e in quei 2-3 mesi i mercati crashano in maniera abnorme e poi il problema di fondo è notevole insomma anche perché la situazione è molto delicata in questa fase ora andando a vedere l'analisi tecnica sul dollaro l'indice del dollaro abbiamo una candela di reverse che è proprio stata fatta la scorsa settimana però ragazzi da un punto di vista tecnico questa candela non è una figura tipo la la dark cloud quindi non è una figura di inversione pura perché la struttura di ribasso e di ritracciamento non ha impattato rispetto al rialzo della settimana precedente questo è una candela che è sì di topping per via della shadow molto pronunciata però in teoria se questa settimana non va a fare una rozza che scende fin qua fino ai 110 più o meno dell'indice del dollaro praticamente questa candela è una candela di riposo quindi da un punto di vista di price action e di analisi dei pattern candlestick non abbiamo una conferma che questo movimento che Robert Kiyosaki dice sta iniziando non sta iniziando queste sono settimanali quindi i candela settimanali hanno un grandissimo valore di analisi tecnica sono le migliori per analizzare questo tipo di macro indicatori come l'indice del dollaro quindi quando qui avremo un vero segnale e qui segnali di inversione non ce n'è neanche l'ombra al momento allora sì potremmo ragionare come dice Robert Kiyosaki perché no quindi magari teniamolo sotto controllo nei prossimi mesi andremo ad analizzare ogni mese o quando ci sarà un segnale ve lo riporto questo grafico il grafico del dollaro appunto per vedere maggiori impatto andiamo a vedere l'analisi ciclica di bitcoin l'ho lasciato per ultima perché in realtà non è che ci sia una grande differenza rispetto alle scorsa settimana ragazzi questa è la struttura che ci attendevamo qui abbiamo sicuramente un ciclo da 14 giorni quindi un bisettimanale che è stato chiuso il giorno del 21 di settembre da qui in poi non sappiamo cosa è iniziato quindi o il 21 ragazzi ha chiuso il ciclo annuale qui proprio anticipando poco poco perché in realtà sarebbe verso la fine del mese di ottobre però anche in questo caso ragazzi su un anno dieci giorni non sono nulla quindi ogni minimo è buono qui ecco questo è il concetto ragazzi per i prossimi due mesi è così fino a novembre però bisogna ragionare un pochettino anche di analisi tecnica analisi tecnica ci dice che in questo momento il mercato è costretto all'interno di una fase di oscillazione molto molto piccola solitamente quando si comprime la volatilità di un mercato come in questa fase poi esplode da una parte o dall'altra c'è da dire che il concetto del ciclo mensile che sicuramente dovrebbe essere iniziato in queste zone dice che ancora un po' i tempi non sono maturi quindi se siamo su un mensile standard dobbiamo andare verso il metà vedete il 12 o proprio in coincidenza con il 13 di ottobre nell'uscita dei dati dell'inflazione a chiudere tutte queste fasi ragazzi vedete è ancora il tempo c'è e c'è come poi da un punto di vista di cicli sottostanti questo 14 qui siamo a 26 è vero che teoricamente ragazzi se qui abbiamo fatto un ciclo ribassista anche questo che sta facendo in questo momento non dovrebbe essere al viaggio quindi dovremmo andare a fare un nuovo minimo qui sotto questa cosa però in una fase del genere io la terrei con le pinze allora secondo me bisogna allargare la finestra di analisi in questa fase perché è una fase di flesso ragazzi è una fase in cui i cicli si vanno a intersecare l'uno con l'altro diventare sinergici abbiamo visto Nasdaq che ha fatto il nuovo minimo bisognerà fare un'analisi del cicli di lungo periodo proprio sui mercati old e lo facciamo questa settimana ragazzi perché è importantissima in questa fase quel tipo di analisi e poi una volta diciamo sviluppata un po' quelle che sono le varie sinergici i cicli ci daranno delle informazioni più precisi al momento l'ipotesi 1 cioè l'ipotesi primaria è che si va a continuare questa fase discendente che abbiamo bisogno di un nuovo minimo proprio in questa zona qui ora i cicli sottostanti sono un po' particolari perché per esempio se qui chiude un ciclo settimanale al rialzo e beh ragazzi qui potrebbe essere stato troncato qualcosa di questo però noi parliamo magari se avviene perché è inutile che mi tedio con una cosa che poi magari non avviene per fare così solo ipotesi che non servono a niente anche perché non stiamo facendo trading e qui poi magari quello lo vado a fare con il trade dell'academy però del mese di ottobre però in questa fase diciamo qui su youtube sarebbe molto complesso spiegarvi dei singoli dettagli di questa cosa qui certo questo trend al rialzo non dovrebbe esserci in questa fase qui perché doveva andare a innescare una fase discendente magari la fa domani eh ragazzi e chiude diciamo la questione però dovrebbe andare a fare un nuovo minimo a momenti sotto questo livello che sta a 18 e 4 quindi bisogna andare a controllare perché se qui il mercato fa una struttura in questo modo e poi brecca io un longhettino lo farei questo lo dico senza consigli finanziari come sempre però ci ragiono e magari qualcosina poi la ragioniamo questa è l'analisi ciclica di bitcoin in questo momento la questione invece di ethereum è anche lui molto delicato perché teoricamente su ethereum invece stiamo chiudendo un ciclo vedete come sono totalmente diversi in questa fase però anche qui vedete non ha fatto questo nuovo minimo quindi sta allungando i tempi anche su ethereum o ha troncato qui un ciclo in un certo modo e qui sta allungando i tempi oppure insomma dobbiamo farlo entro un paio di giorni massimo quindi ragazzi se entro un paio di giorni questi prezzi vanno a toccare questa fase qui tutto è confermato secondo quello che è la visione e la ipotesi principale diciamo più standard più classica altrimenti se non lo fanno ci riaggiorniamo perché tiriamo su altre conclusioni e altri tipi di analisi che potrebbero essere perché no estremamente interessanti fermo restando che come vi dicevo se bitcoin mi va sopra i 19 i 20.000 diciamo così 20.000 dollari incloso un longhettino ci sta alla grande va bene fatemi sapere come state gestendo questa fase che si sta riempendo anche di molta paura per i mercati internazionali per quello che sta avvenendo solitamente le fasi di paura per essere cinici che poi non è un canale che parla di politica ma è un canale che parla di trading ed economia ragazzi solitamente le fasi di estrema paura sono anche le fasi in cui si chiudono appunto questi cicli vediamo però incrociamo le dita che non succeda niente per ovvi motivi non per una questione legata alle quotazioni dei mercati va bene allora per oggi è tutto fatemi sapere voi cosa state facendo come sempre nei commenti e cosa ne pensate della questione del dollaro che ha detto Robert Kiyosaki sempre interessante ciao a tutti ciao a tutti